20 anni di tutta l'età benvenuti a doom de doom ebbene sì questo è doom de doom o meglio questo è un piccolissimo assaggio di quello che poi sarà doom de doom ma vi starete chiedendo cos'è doom de doom anche se penso che più perspicaci fra voi l'avranno già capito beh doom de doom è la nostra rubrica interamente dedicata alla musica a tema disney sia fumettistico perché la musica c'è anche nei fumetti disney che nei lungometraggi e nei cortometraggi sempre animati disney e come primo oggetto stiamo cercando te sì proprio tu proprio tu che stai lì che stai suonando con la tua chitarra con la tua trombetta col tuo tamburo stiamo cercando te per realizzare una grande orchestra a tema ventenni paperoni che riarrangerà i classici disney in una chiave un po più creativa è tutto quanto da vedere bene come poi ce la guardiamo insieme se vuoi partecipare invia una mail a redazione chiocciola ventennipaperoni.com che trovi qua sotto specifica dell'oggetto progetto doom de doom e mandaci un qualcosa di tuo facci sentire qualcosa cerchiamo musicisti produttori del suono perché servirà anche chi lo aggiusterà per quel suono e il requisito importante oltre ovviamente a saper suonare è quello di riuscire a registrare sia video che audio in buona qualità perché dato che non possiamo incontrarci tutti quanti il progetto sarà a distanza quindi faremo tutti quanti insieme l'arrangiamento poi ognuno registrerà la sua singola parte sia video che audio e poi metteremo tutte insieme e daremo vita a le cover diciamo così di doom de doom alcuni di voi hanno già mandato una mail perché abbiamo già pubblicizzato questa cosa nelle nostre stories qualche settimana fa e stiamo analizzando tutto quello che ci avete mandato stiamo giudicando per poi selezionare quelli che poi parteciperanno al progetto tra l'altro vi do un consiglio visto che comunque dobbiamo selezionare perché con tutto il bene vogliamo far suonare tutti ma non possiamo far suonare 50 chitarristi o 30 batteristi sarebbe un po' difficile ecco magari cerchiamo più gente che suoni strumenti un po' meno comuni quindi se magari suonate strumenti a fiato se magari suonate strumenti un po' particolari se magari suonate le percussioni contattateci che ci servite veramente come il pane quindi beh penso di avervi detto tutto ragazzi buona musica e ci sentiamo presto un po' particolare Grazie a tutti. Grazie a tutti.